Però non lo trovo più, dove cavolo è scappato? Ma si è suicidato? Sono abbastanza sicuro ragazzi che si sia suicidato perché non spunta più nella tablis, ok quindi l'abbiamo... Oh mio dio Oh mio dio ragazzi ho sudato freddo Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in un nuovissimo video degli Egg Wars Nell'ultimo video avevo detto nelle Bed Wars degli Apixel ma semplicemente perché stavo scherzando ragazzi E' ovvio che so che siamo negli Egg Wars e tra l'altro io questa mappa non l'ho mai giocata ma si chiama Magic E' la mappa magica ragazzi quindi credo sia una mappa bellissima anche se la mia preferita resta sempre la mappa dell'arcobaleno Tra l'altro l'ultimo video l'avete supportato bene 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 benissimo e quindi mi sono deciso di riportare la serie degli Egg Wars Visto che avete lasciato tantissimi mi piace, tanti commenti positivi, tantissime visualizzazioni E io sono contento quando supportate una serie così bene e adesso dobbiamo capire cosa fare in questa mappa Intanto stanno facendo i miei compagni l'Iron, stanno upgradando l'Iron Generator Ok perché? Cosa ce ne facciamo di tutto questo Iron? Sinceramente non me l'ho chiedita a me perché non ne ho la più pallida idea Credo che piuttosto dovrebbero fare tipo diamanti, oro eccetera eccetera Allora adesso che stiamo arrivando al centro piano piano creiamoci una piccola stradina No ok questo non doveva esistere perfetto così 24 blocchi ce la faccio con 24 blocchi ad arrivare io lì Dovrei farcela però prima sapete cosa? Per precauzione io mi faccio una piccola scalinata qua per ritornare a casa perché non si sa mai Mettete ragazzi che arrivo lì e poi finisco i blocchi come cavolo torno a casa? Eh non torno in quel caso come fai? Non puoi tornare Ok dovrei farcela proprio preciso preciso qua facciamo un'altra piccola scalinata giusto per essere sicuri E adesso adesso ci possiamo prendere veramente tutto quanto perché nessuno è ancora venuto al centro Ah lui è venuto ma adesso lo picchiamo a pugni proprio lo picchiamo così Lo picchiamo con i pugni nelle mani vuole prendersi lui i diamanti ma in realtà io lo butto giù Questo è il mio compagno perfetto e ho finito il cibo perché mi ero dimenticato che qua il cibo è fondamentale Quindi vediamo ce la faccio a saltare qua senza morire No sapete cosa non salto facciamo così perfetto così non rischio la mia vita Ma sei stupido non ho blocchi aiutami Fammi risalire per favore fammi salire anche qua devi farlo anche qua perfetto bravissimo ma quanto è bravo questo Steve ragazzi Ha capito che non avevo blocchi e me li ha Oh mio dio la testa è girata che paura che mi ha fatto ragazzi Ha la testa è girata oh mio dio allora ci abbiamo 4 diamanti e 5 di oro non credo di poterci fare niente però prima di tutto ci prendiamo del cibo Perché è la cosa che ci serve in assoluto per ora dire che queste cotonette bassano ok Quel giallo che cacchio sta facendo vuole venire nella nostra isola Na 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 te hai capito proprio male allora io mi faccio una spada una qualunque Così è sempre meglio di niente facciamo così ottimo è venuto lo sta rompendo l'ha rotto Ovviamente non siamo riusciti a proteggere il letto c'è l'uovo in tempo Però non vi preoccupate ragazzi perché sapete benissimo che anche senza uovo kendall riesce a vincere le partite lo sapete bene E' la maledizione dell'uovo di kendall e se lasciate un mi piace soprattutto le vinco ancora meglio ancora più facilmente Ora a questo lo dobbiamo uccidere non lo dobbiamo fare scappare a nessun costo Ecco vai giù adesso brutto schifoso che ha cercato il rio anzi che ci ha rotto l'uovo nel paniere Ma adesso come vi dicevo ragazzi anche senza l'uovo riusciremo a vincere questa partite non mi crede non mi state credendo Ma siete seri non mi credete che riusciamo a vincere anche senza l'uovo va bene Allora facciamo una cosa lasciate un bel mi piace già da adesso proprio lasciate immediatamente un mi piace E vi assicuro che questa partita sarà vinta al 100% Allora prendiamoci un pochettino di armatura anche in cacca è sempre meglio di niente Ma tra l'altro quanto fa strano vedere che gira cammina con la testa girata E' veramente una cosa bruttissima e straambigua Allora dovremmo avere adesso abbastanza diamanti per poter fare qualcosa in quanto ho fatto l'upgrade a livello 2 Vediamo 9 diamanti un altro e credo di potermi fare un pochettino di armatura buona Quindi 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 allora ci prendiamo immediatamente dei blocchi così posso tornare al centro E andando al centro poi ci prendiamo dell'oro e tanta altra bella roba da poter utilizzare Per spaccare in due quello che ci ha rotto l'uovo Ma come si è permesso chi era era il giallo vero era proprio il giallo era lui me lo ricordo Non ti preoccupare giallo adesso kendalino avrà una sorpresa per te Guarda questi verdi qua che cosa vogliono fare ciao ehi sono qua dietro di te Ok ti ho buttato giù vediamo se butto giù pure lui Cacchio però è molto rischiosa questa mossa ragazzi perché se mi butto giù lui No non mi è buttato giù per fortuna Ora io posso No 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 non ne vale la pena Non ho nemmeno un piccone quindi non ha senso Torna giù ho detto Non ha senso che io vado nella loro isola a cercare di rompergli l'uovo Però questo qua ora sta cercando di uccidermi Hai capito proprio male io sono kendal L'imperatore di Ho ucciso ok Delle bedwars e delle eggwars E di qualsiasi altra modalità che gioco Come ha detto un mio fan il mio fan ha scritto nei commenti kendal è l'imperatore di tutto Basta che gioca una modalità lui diventa l'imperatore Automaticamente lo eleggono imperatore sovrano massimo Massima potenza dell'esercito minecraftiano Non so che cosa sto dicendo Allora tu dovresti essere morta tra altre due spalate probabilmente Quindi ok una spalata in realtà bastava Ora vado a casa tua i tuoi compagni stanno dormendo No non ce la posso fare mai a distruggergli l'uovo raga A pugni è proprio impossibile Ma non hanno la spada entrambi What the fuck Ok uccidiamo lui raga Dopo averlo ucciso mi vado a prendere subito un bel piccone Me lo vado a comprare E gli spacco tutto quanto Gli spacco l'uovo e eliminiamo un'altra isola Eliminiamo i gialli schifo Ah i gialli ecco Siamo Oh gialli dei miei stivali Adesso ci penso io A voi siete stati voi Ad aver rotto il nostro uovo Eh adesso ci pensa zio kendal Non ti preoccupare Andiamo subito a commerciare con il loro commerciante Un qualsiasi piccone Anche un piccone scrauso schifoso Mi basta e mi avanza Devo soltanto essere molto veloce Quindi mettiamo questo qua Perfetto ci siamo presi due Non importa E adesso il vostro uovo se ne andrà a farsi friggere Esatto Ah Ora si che mi piace giocare contro di voi gialli Adesso si che mi sono finalmente vendicato di voi Che mi avete distrutto l'uovo E mi avete condannato alla maledizione di kendal Ok ok Uno è riuscito a scapparci Anzi no aspettate Visto che io ho tutto questo Questo gold Mi farei quasi quasi la spada migliore Visto che lo posso fare Eh ok perfetto Meglio la spada Perché l'accetta raga Non mi piace Perciò a me Ho gusti personali Non mi piace l'accetta Allora sono full iron Con una spada in iron E soprattutto ho cibo E risorse a volontà Ci abbiamo anche un piccone Abbastanza scrauso Però ce lo faremo bastare E dobbiamo andare dei green Che sono l'oro E guardate questo No tu Ma cosa sei facendo con quella spada da nudo Che un'altra spada E muori Allora dove cavolo è andato il giallo È tornato a casa sua Secondo te questo mi potrà fermare Dal vincere la partita Tu credi che io abbia paura Adesso Ok forse ce l'ho un po' di paura Forse è meglio Se torno un attimino indietro ragazzi Mi equipaggio bene Prima di andarlo a uccidere Di vendicare la mia specie Perché tutti i miei compagnetti Ah no In realtà un mio compagnetto è ancora vivo Ci abbiamo ancora quello Quello Steve con la faccia storta Che è ancora vivo Perfetto Allora È permesso Si può entrare Posso venire per favore Voglio soltanto guardare la vostra isola Guardare il vostro ovetto Come l'avete protetto Eccetera eccetera No vi giuro che non lo rompo Giuro su chi volete voi Che io non vi rompo il letto C'è l'uovo voglio dire Devo continuare qua con il ponte adesso Perché ovviamente Loro i ponti mica li continuano No loro li fanno Ma poi non li continuano più Adesso mi posso anche buttare qua Perfetto Ciao Come stai? Dovresti essere morta tra un'altra spadata o due Guarda questo con la spada ancora Nudo con la spada Che cerca di uccidermi Anche tu Pure tu Che sei full leather Ma cosa puoi fare? Ma scusate Ma scusatemi adesso Ma parliamo in tutta sincerità In tutta sincerità Io adesso vi entro qua dentro Vi rompo tutto quanto E ora siete morti Tutti quanti voi Esatto Da solo Contro tutti ragazzi Certo Sono messo un pochettino Molto meglio di loro Però questo è un piccolo dettaglio A cui non dovete tener conto Meno uno Poi Meno due Perché tu adesso muori Tu che facili lo sbruffone da nudo E cercavi di uccidermi Con quella spada schifosa Ah ah Meno due anche tu E adesso Dove è scappata l'altra ragazzina? Vi posso assicurare Che qualcuno si è salvato Di questa isola E a me non va bene Oh Guarda dov'è Guarda dov'è Quello schifosino puzzino Ok 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 Vediamo se mi posso fare un arco Secondo voi me lo posso fare un arco? Quanto costa? Oh Proprio perfetti Perfetti Per farmi l'arco ragazzi Proprio perfetti Perfetti E anche 30 frecce Ora voglio proprio vedere Come fai a risalire tu Soprattutto quando io c'ho l'arco E tutti sanno che Kendal Ha una mira infallibile Però non lo trovo più Dove cavolo è scappato? Ma si è suicidato? Sono abbastanza sicuro ragazzi Che si sia suicidato Perché Non Non spunta più nella tablis Ok quindi l'abbiamo Oh Mio Dio Oh Mio Dio ragazzi Ho sudato freddo Per un secondo Ho sudato freddo Ero convinto di essere caduto Nel void Oh Mio Dio Oh Fatemi riprendere un attimo Allora Riprendiamoci degli altri blocchi adesso Sì 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 Decisamente sì Oh mio dio Ok abbiamo il cibo Abbiamo i blocchi Non mi piacciono questi ponti schifosi Guardate quanto è bello questo mago Oh mio dio Questo è il mago nero Il mago scuro Che figata Allora Torniamo qua dentro Vediamo 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 Dove diavolo possono essere adesso E soprattutto ora sono da solo Contro due ragazzi La battaglia sarà veramente Difficilissima da vincere Vediamo se posso comprare qualcosa di buono con questo Ah ma io ancora c'ho Oh mio dio Fino ad ora ho utilizzato la spada in stone Cioè io mi sono fatto la spada in iron E fino ad ora ho utilizzato quella in stone Ma mi prendete in giro? Ora sono sicuro Che tutti quanti nei commenti mi state dicendo Oh mio dio Kendall sei un cretino Che stai facendo? Mi posso fare la spada in diamante Perfetto Allora torno subito al centro Mi prendo i diamanti Vado a casa mia Mi faccio la spada in diamante E li apro in due E questo è il piano di oggi ragazzi E questa la giornata Come direbbe Andonio Allora Prendiamoci questi diamanti Credo siano a casa mia Camperati In cerca di Non lo so Sperano che io probabilmente vada a casa Così mi possono uccidere in qualche modo Avranno qualche Tattica Qualche piano Qualche tranello Sicuramente Ne sono sicuro ragazzi Vediamo vediamo Diamo un'occhiata Riuscite a sentirli? Io non li sento ragazzi Non sento la puzza di vigliacco Allora Prendiamoci adesso la spada No mi mancano altri due diamanti Per farmi la spada Cioè per farmi l'accia in diamante Io mi voglio fare assolutamente L'arma più potente del gioco Ovvero l'accetta in diamante Non mi importa cosa ho detto prima Ho detto che non mi piacevano Questa volta c'ho tanti diamanti E me la faccio Perfetto Adesso voglio proprio vedere Chi mi fermerà E soprattutto voglio proprio vedere Dove si trovano Questi gialli schifosi Che hanno paura Delle grande Imperatore Kendal Però fanno bene ragazzi Non li biasimo Anch'io avrei paura Di Kendal Se fossi contro di lui Sarebbe bello Giocare contro me stesso Una volta E vedere come gioco Vedere quanto sono forte Allora Si può sapere dove sono Non mi dite che sono In cima al mago ragazzi Sono in cima al mago No No Questi sono in cima al mago Ragazzi Ma si può sapere Dove diavolo si stanno nascondendo Ma li troverò Prima o poi Voi li vedete Ora magari voi li state vedendo E mi dite Oh mio dio Kendal sei cieco Ma io vi giuro Cioè io sono stato in tutte le isole Sono stato là Sono stato dei verdi Sono stato dei rossi Sono stato dei gialli Sono stato a casa mia Poi sono stato al centro E non c'era nessuno Ora sono pure in cima Al mago nero Sono proprio sulla testa Del mago Guardate ora arriviamo Sulla testa del mago nero Vi faccio vedere Che non ci sono nemmeno lì No Cioè ma questi si stanno nascondendo Come dei sorci Si stanno nascondendo Come dei sorci schifosi ragazzi Se io mi butto Non muoio vero No 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 Posso continuare a scendere In questo modo Anche se mi spacco un pochettino Le ginocchia e le caviglie No ok Se mi butto da qua Forse si che muoio Quindi qua devo scendere un attimino In modo un pochettino Più intelligente Vediamo da qua Oh c'è stato Qualcuno ha upgradato qualcosa Ragazzi L'avete sentito tutti quanti Avete sentito che qualcuno Ha fatto l'upgrade Del diamante E credo sia stato Proprio a casa loro Si 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 ok Sono venuto da qua io Guarda devo soltanto scavare In giù In questo modo Perfetto E poi scendere da qua Ottimo Ok siamo scesi ragazzi Ce l'abbiamo fatta Eccolo Lo sapevo Sono lì ragazzi Sono tutti e due A casa loro Hanno appena fatto L'upgrade I schifosini Guardali Guardali che si stanno Stanno facendo full iron Entrambi Ah se lo sono fatti Adesso il full iron Ma Kendall sta arrivando Proprio per voi Kendall sta venendo A massacrarvi male Muori Muori Mi stavano buttando giù ragazzi Ero tanto così Da morire questa volta Ok l'ho preso con l'arco Vediamo se riesco a ucciderli Tu devi morire Tu devi morire Io ti uccido Perché tu sei quello Che mi ha rotto L'uovo Come ti sei permesso Ok meno uno E dove è l'altro E dove è l'altro ragazzi Non avete mai visto Kendall Così infuriato Nella vostra vita È scappato Codardo Se l'è data a gambe ragazzi Se l'è data a gambe Al centro E cosa sta cercando di fare ora Sta cercando di rompere i blocchi È convinto di potermi fermare In questo modo Tu non hai capito niente Io ora ti uccido con l'arco Allora Se continui a cercare Di rompere il ponte Lasciami passare E l'abbiamo ucciso ragazzi Abbiamo vinto Questa partita epica Nei Cubecraft Nelle Egg Wars Ci siamo riusciti a vendicare Siamo stati Sulla testa del mago nero Ed è stata veramente Una partita Pazzesca Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto Ovviamente condividetela Con tutti i vostri amici E commentate qua sotto Da Kendale è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.